Scusi bella raga e benvenuti in questo nuovo video, che bello, sono venuti qua finalmente in questo mondo e volevo ringraziare a tutti quanti che vi siete iscritti al mio canale Doni Sala e a tutti quelli là che dicono naturalmente ma tu sei vero Doni Sala? Ma certo che sono il vero, che sono quello vinto Comunque, voglio farvi vedere una cosa perché mia nonna è appassionata di paperelle che le fa sempre nel mio scopo faccio vedere questa paperella che è molto molto bella, vedete? Questa è la paperella, con i fiocchi, vedete che bene? Io sono la paperella, vedete che bella, bellissima, bellissima, proprio, bellissima Niente, vi volevo dire praticamente di spargere voci in tutto il mondo di iscriversi al mio canale Doni Sala Youtuber e lasciate tantissimi like, commentate, condividate, mi raccomando perché voi vedete tutto l'antico lo sbaglio e niente, dite ai vostri amici e ai vostri nemici, a tutti quanti, di iscriversi al mio canale Youtube Doni Sala e sotto vi lascio un link di descrizione su dove trovarmi su Youtube su Google, su Facebook, a tutte le parti vi lascio il link in descrizione, mi raccomando servitemi vi lascio il link, cliccate mi piace, seguite mi fate tutto voglio farvi vedere in breve il mio paese un breve, piccolo, miniccolo, così miniccolo allora qui è il mio paese non preoccupio, non mi diverti spero che si è visto in qualche maniera perché ho il telefono comunque se volete che faccio video continuo iscrivetevi e se iscritti e mi raccomando lasciate un bel like un bel pollice in su e tornerò con il prossimo video con i nuovi video che li sto programmando sempre se volete voi iscrivetevi al mio canale e lasciatevi un bel like se facciate voce che esistono iscrivetevi al canale Doni Sala non ci sono parodie e un saluto dalla peperella ciao 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 ciao